Prenderanno il via a martedì 1 ottobre le operazioni del censimento annuale della popolazione italiana, detto permanente, che come accade ormai da qualche anno non avviene più sulla totalità delle famiglie, ma su un campione rappresentativo. Quest'anno i nuclei selezionati sono un milione distribuiti in 2530 comuni. Siracusa partecipa alla rilevazione denominata da Lista, che prevede la compilazione autonoma di un questionario online sul sito dell'Istat da parte delle famiglie campionate individuate, che sono informate attraverso una lettera firmata dal presidente dell'Istituto di Statistica. I nuclei siracusani del campione statistico sono 2608. La partecipazione al censimento è un obbligo di legge, ma anche un'importante opportunità per la collettività, perché consente di conoscere meglio il paese in cui viviamo, chi siamo e come sta cambiando il territorio. Sapere quali sono le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che vive abitualmente in Italia, differenziando i dati a livello nazionale, regionale e locale, consente inoltre di effettuare comparazioni col passato e con altri paesi. Perciò si chiede la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Dal 7 ottobre al 9 dicembre 2024 i nuclei selezionati possono compilare il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa oppure tramite speed o carta di identità elettronica. In alternativa le famiglie possono contattare il centro comunale di rilevazione e procedere con una intervista telefonica oppure possono recarsi al piano terra di via San Sebastiano 31. Il centro comunale di rilevazione ha compiti di informazione, assistenza alla compilazione e recupero delle mancate risposte. A partire dal 12 novembre e fino al 23 dicembre le famiglie che non hanno risposto o che lo hanno fatto solo in parte saranno contattate dagli operatori comunali o dai rilevatori per un'intervista telefonica oppure in presenza al domicilio o al centro di rilevazione. Scatte il 1 ottobre il censimento della popolazione.